E' il buio della notte di venerdì 31 ottobre, dalle 23.00, poi Sexy Halloween. Ci saranno streghette da tutto il mondo con dolcetti e scherzetti piccanti. Se hai coraggio, ti aspettiamo da solo o con i tuoi amici. Venerdì 31 ottobre, al carosello Sexy Disco, di Casalecchio di Reno, Bologna, via Bazzanese 953, località Cerecro. Info 051 500 70 500. Una festa fantasma, tropica. E' il buio della notte di venerdì 31 ottobre, dalle 23.00, poi Sexy Halloween. Ci saranno streghette da tutto il mondo con dolcetti e scherzetti piccanti. Ti aspettiamo da... Venerdì 31 ottobre, se hai coraggio. Al carosello Sexy Disco, di Casalecchio di Reno, Bologna, via Bazzanese 953, località Cerecro. Info 051 500 70 500. Una festa fantasma, gorica. Special guest Eva Robbins.